Il significato stasera essere qui in queste vie purtroppo note per il triste fenomeno della prostituzione, questa presenza, questa fiaccolata, questa messa in questo luogo? Beh, innanzitutto per ricordare Don Oreste Benzi il sesto anniversario della sua morte e ricordando lui, facendo memoria di questo grande uomo di Dio, di questo santo, naturalmente vogliamo anche continuare un po' l'opera che lui stesso ha svolto con una fantasia, con una dedizione appassionata, andando a cercare le persone là dove le persone si trovano per aiutarle, per salvarle, un po' come ha fatto, e il Vangelo ce lo ricorda, Gesù Agerico che si è avvicinato, alzando il suo sguardo, si è avvicinato al Zaccheo, al pubblicano, al pubblico peccatore, proprio cercando di avvicinarsi a lui con tanta attenzione per riuscire a recuperarlo alla sua dignità di persona umana, di figlio di Abramo e quindi proprio per incamminarlo sulla strada della salvezza. Così ha fatto Don Oreste seguendo le orme del Signore Gesù.